Si tratta di Troine a gira nell'Ennese, Salemi, in provincia di Trapeni e Villa Frati nel Palermitano. I veri e propri focolai dell'isola inizialmente dichiarati zone rosse fino al 15 aprile, con il provvedimento che era stato poi esteso fino al 3 maggio a causa della preoccupante crescita di contagi e decessi. A Troina l'emergenza era scoppiata all'interno dell'Istituto Oasi e in totale si era registrato un picco di circa 170 positivi, mentre a Villa Frati il virus si era insinuato tra le mura di una casa di riposo, mietendo diverse vittime tra gli ospiti. Adesso la nuova ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nell'Omusumè ci mette fine a quella drastica chiusura, ovvero al divieto di accesso e di allontanamento dai territori comunali e alla sospensione di ogni attività dei uffici pubblici, a eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Dal 4 maggio, dunque, dopo oltre un mese di chiusura totale, i comuni di Troina, Gira, Salemi e Villa Frati, il vero simbolo della pandemia, riapriranno le porte e vivigeranno le stesse regole in vigore nel resto dell'isola per contrastare l'emergenza legata al contagio da coronavirus. Il governatore siciliano continua comunque ad invitare gli abitanti a rispettare le distanze interpersonali, a utilizzare le mascherine anche fuori casa e a non dimenticare che la battaglia non è vinta.